Vota a Lega. Buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentrovati a Oblò Punti di Vista. Un nuovo appuntamento questa sera che ci porterà un po' a scoprire quelli che sono i protagonisti di questa campagna elettorale che si concluderà con le elezioni del 25 settembre. Noi scopriamo da vicino temi e programmi dei principali candidati. Questa sera abbiamo un ospite. Vi svelo soltanto che si tratta di un politico del centro-destra, ma scopriamolo subito attraverso la scheda fatta per noi da Davide Occella. Dopo un lungo passato al fianco di Silvio Berlusconi, Maria Rosaria Rossi vive con questo voto una nuova sfida, pur restando nel campo moderato. Origini casertane di Piedimonte Matese, studi tecnici, negli anni 90 animatrice della movida romana. Diventa poi imprenditrice, sempre nella capitale, sposa la causa di Forza Italia, facendosi le ossa, tanto da colpire per il suo impegno Silvio Berlusconi. Ne diventa così una collaboratrice fondamentale, ricopre diversi incarichi. Nel frattempo entra a Montecitorio nel 2008, cinque anni dopo sarà la volta del Senato. Da 2014 al 2016 è commissario straordinario di Forza Italia per il taglio delle spese. Il suo ruolo non è scalfito da accuse, intercettazioni, il calvario del processo Rubiter sulle cene eleganti di Arcore, che ancora oggi, dopo dieci anni, la vede accusata di falsa testimonianza. Semmai la rottura con gli azzurri arriva nel gennaio del 2021. Dopo il voto favorevole al governo Conte II in piena crisi, l'espulsione è immediata, ma resta comunque nell'orbita del centrodestra, sostenendo i progetti di Cambiamo, Coraggio Italia e Italia al centro, sempre al fianco del governatore Ligure, Giovanni Toti. Diamo il benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito alla senatrice Maria Rosaria Rossi. Grazie, grazie a voi e buonasera a tutti. E buonasera al direttore Gianni Ambrosino. Buonasera direttore, grazie. Senatrice Rossi, lei è nata a Piedimonte Matese, l'abbiamo sentito adesso nella scheda, vissuta quindi in provincia di Caserta, ha vissuto poi successivamente a Roma, un grande impegno in politica, una grande coerenza perché è rimasta sempre nell'ambito del centrodestra, dopo Forza Italia, lei ha aderito al progetto di Giovanni Toti, Italia al centro, e adesso la vedono candidata all'uninominale nel collegio di Fuorigrotta, che ricordiamo ai nostri telespettatori, non si tratta soltanto del quartiere di Fuorigrotta, ma comprende altri quartieri che adesso però la senatrice Rossi ci dirà. La prima domanda che le voglio fare è come mai lei si è candidata a Napoli e in questo collegio? Tra l'altro un collegio dove sono candidati tutti i massimi esponenti della politica italiana, lei si sfida con il ministro Di Maio, con il ministro Carfagna, con l'ex ministro Costa, insomma diciamo un collegio abbastanza impegnativo. Sì è impegnativo questo collegio per quanto riguarda noi esponenti del centrodestra, perché purtroppo questo collegio è dal 1993 che è stato sempre gestito, amministrato e governato dalla sinistra e si vede. Nell'ultima poi legislatura, quella ancora attuale, invece è stato vinto dai Cinque Stelle. Quindi sono 28 anni che il centrodestra non ha mai vinto qui. e il 26 di settembre vincerà la Rossi finalmente e quindi Napoli verrà liberata dal mal governo e dall'oppressione burocratica della sinistra e dall'arroganza e dall'improvvisazione e dalla miopia dei Cinque Stelle. Ma lei si è trasferita qui per questa campagna elettorale? Come ha trovato la città? So che lei sta girando i scooter per le vie di Napoli. Sì, io mi sono trasferita qui dal giorno dopo che mi hanno detto che probabilmente sarei stata comunque candidata qui a Napoli, anche perché è stato un collegio che, devo dire, non è che ha avuto da litigare. Quasi nessuno, insomma, sapendo che comunque era un collegio perdente, voleva prenderlo. Io ho detto no, io voglio andare anche perché ringrazio i leader, soprattutto del mio partito, perché io sono candidata all'uninominale, quindi per tutto il centrodestra, ma il partito a cui appartengo, l'ha detto prima, è il partito di Giovanni Totti, che in questa tornata elettorale si è unito ad altri tre partiti con un unica lista. Nella lista noi moderati. E siamo noi moderati, sì. Maurizio Lupi, Luigi Brugnaro. Ci sono quattro simboli, quindi c'è Maurizio Lupi, Giovanni Totti, sappiamo chi sono, Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia e Lorenzo Cesa. Quattro simboli che vanno a formare un'unica lista, noi moderati. Noi saremo quella parte moderata che andrà a comporre il centrodestra. E il direttore vuole dire qualcosa, no? No, no, voglio soltanto ricordare che non è solo Furigrutta il collegio. No, il collegio... È un collegio molto... Sì, un collegio vastissimo, sì, sì. Comprende Mercato, Pendino, Chiaia, Positivo, San Bernardino... E' il suo collegio. E' il suo collegio. Quindi un voto lo abbiamo qui per la Rossi e sarà quel voto, siccome si vince per un voto in più, direttore, il suo sarà il voto che mi farà vincere. Ma se vinco io non vincerò come persona, ma vincerà Napoli, vinceranno i napoletani. Io sto girando... Napoli mi sono trasferita qui e la sto girando, sì, con il motorino perché ovviamente riesco... Riesce più facilmente a raggiungere i luoghi elettorali. Pochissimo tempo per poterla vedere soprattutto... Ma mi dica una cosa, lei ha lasciato Forza Italia dopo tanti anni al fianco del Presidente Berlusconi. Sì. Il rapporto adesso con gli alleati, dopo che ovviamente lei è sostenuta da tutta la coalizione del centrodestra e quindi anche da Forza Italia. Sappiamo che Forza Italia non verse in uno stato di salute ottimo, soprattutto in Campania ci sono state diverse fuoriuscite di storici esponenti del partito. Lei come valuta questa situazione e soprattutto come gli alleati su questo territorio hanno... come dire, la stanno sostenendo? Ma devo dire con grande entusiasmo perché quando io sono arrivata sono venuti soprattutto i colleghi e amici di Forza Italia, così come quelli di Fratelli d'Italia e devo dire anche della Lega. Mi hanno detto finalmente è tornata la Rossi. Sì, beh, credo che, non so a livello nazionale come andrà Forza Italia, ma sono convinta che in questo collegio Forza Italia avrà il doppio del risultato della media nazionale. Beh, una previsione, io le auguro per carità, che sia ottimistica, molto ottimistica però... Ma sì, perché ho visto comunque un entusiasmo, sì, è vero, ci sono stati dei fuoriusciti, anche io ho ricordato lei, io sono uscita da Forza Italia, ma per un motivo molto semplice, per una coerenza, perché quando, essendo comunque in Senato, il Presidente Mattarella ci ha chiesto un senso di responsabilità e una continuità del governo, allora il governo Conte... L'ha votato per il Conte. Io ho votato per la continuità di un governo che in quel momento era rappresentato da Conte con una terza ondata della pandemia, che da lì a breve sarebbe arrivata e che non... Però poi sappiamo come è andata a finire, il governo poi non è andata a finire... Non è andata a finire proprio bene, per il Conte. Il governo poi alla fine è caduto e quindi è stato chiamato comunque... Sì, però, infatti io ero per la continuità di un governo, infatti il Presidente Mattarella non ci ha consentito di andare a votare, perché non c'erano nei presupposti, non c'erano i tempi, non c'erano le condizioni per poter andare a votare. E' arrivato Mario Draghi, il nostro, diciamo, quelli che tutti vanno considerati un salvatore... Sì, che ha continuato su quelli che erano stati presupposti in Europa, dei fondi che sarebbero da lì a poco stati destinati all'Italia, quindi ha proseguito sicuramente il percorso che era stato avviato. Ma per coerenza, mi perdoni così, concludo, siccome il partito di Forza Italia, il gruppo di Forza Italia al Senato, ha votato contro la continuità di quel momento perché voleva andare a votare, per coerenza ovviamente ho lasciato Forza Italia... Mantenendo comunque un rapporto personale con il presidente Silvio Berlusconi, un rapporto che comunque dura da anni e che non è stato scalfito sicuramente da questo mio senso di responsabilità. Anche perché poi c'è un momento in cui bisogna, anche i partiti hanno bisogno comunque di rinnovarsi. Però io sono rimasta nel centro-destra perché, soprattutto nel centro, perché questa è la mia casa, ma soprattutto per quei valori che nel 94, come imprenditrice, nel 2006, poi come persona diretta in politica, la mia prima candidatura, sono quei valori che comunque non ho... sono il motivo per cui io sono scesa in campo in politica e per il... a differenza di altre colleghe che hanno lasciato Forza Italia, ma sono approdati addirittura alla parte opposta. Se ne parlo della Carfagna. Sto parlando anche di Mara Carfagna, sì, che in questo collegio è candidata con il partito di Renzi e di Calenda e non capisco come mai la sua candidatura qui, prima perché non è il suo collegio di appartenenza. Ma di fatti non è candidata solo qui. No, lei è candidata qui ed è candidata anche, credo, in altri cinque. In Puglia. In Puglia, in Puglia. Sì, in Puglia, dove probabilmente sarà eletta. Qui non sarà eletta per un semplice motivo perché sarà eletta Maria Rosaria Rossi. Allora, ovviamente è dare un buco al lupo a Maria Rosaria Rossi, però diciamo che c'è stata una... Me lo auguro per Napoli, perché mi perdoni se torno un attimo, poi interrompetemi pure, ma vi interrompo anch'io, quindi ci interrompiamo. Napoli, io me la ricordo da piccola, quando mia mamma e mio papà, litigando in macchina perché mio padre voleva fare delle tappe diverse, mio padre voleva guardare, mi portavano sul lungomare a mangiare la pizza e mi ricordo questo profumo, questi colori, questa vista, questa... mi sedevo per terra a mangiare questa pizza. Adesso io sono tornata dopo tanti anni e c'è un degrado, c'è un senso, ho provato veramente un senso di tristezza, di solitudine nel vedere queste strade abbandonate, questi quartieri sporti, cioè questo degrado che sinceramente... Napoli non merita nessuna città al mondo, ma proprio per le potenzialità, per la ricchezza, per la cultura, per la storia, per questo grande patrimonio che è Napoli, vederla ridotta così veramente è una cosa che io non posso sopportare, non posso accettare, a prescindere da come andrà questa mia elezione, io dico che vincerò, ne sono convinta, ma a prescindere io comunque a Napoli resto, perché credo che... Vuole prendere casa a Napoli? Mi tolgo una curiosità, lei parla di Napoli, però non la vedeva... Poi parleremo della regione, perché voglio dire, parliamo della Campania... La regione è un altro discorso, quindi lei ha vissuto, anche se non direttamente, sempre Napoli, perché se no, diciamo, è difficile in pochi giorni potersi sentire napoletana e poter fare delle critiche non avendo partecipato alla vita di questa città... Io ho partecipato direttamente alla vita, io sono stato amministratore tesoriere unico di Forza Italia e sono stata sua assistente personale per dieci anni, quindi insieme a lui ho potuto vedere e occuparmi di tutte le regioni, anche di Napoli, certo, io nel 2015 poi sono venuta, sono stata nominata commissario, insomma, di Forza Italia, di Forza della provincia di Caserta e in quel periodo, nel 2016, mi sono... Interfacciata col territorio. ...occupata soprattutto del territorio. Diciamo una sfida molto importante e significativa, quella che lei ha lanciato, diciamo, venendo nella nostra città, dove è stata accolta bene, era quello che ci ha fatto capire, però io la vorrei capire... Sì, ma il fatto che io sia stata accolta così bene, così con grande entusiasmo, vuol dire che qui mancano dei riferimenti, manca comunque veramente una dirigente... Sì, ma io volevo farle questa domanda, a parte quelle che sono, diciamo, le sue considerazioni. Forza Italia ha perso pezzi importanti qui in Campania, ha perso Carfagna, ha perso il coordinatore regionale di Siano, non ci sono candidati due Cesaro, per tanti motivi che è inutile che andiamo a, diciamo, a vedere, a sindacare. Forza Italia resta però un partito che, assieme agli altri, dovrebbe, diciamo, dovrebbe vincere queste elezioni, grazie al traino, cioè io parlo a livello nazionale, grazie al traino anche della Meloni. Che ruolo potrà avere Forza Italia? Ma principalmente, secondo lei, che ruolo potrà avere Berlusconi? E come lo vede Berlusconi, visto che è stata vicino a lui per tanti anni, conosce le sue dinamiche, adesso ci sono altre persone che stanno con lui. Com'è? Come mai? Come sta, secondo lei? Ancora quella grinta? Perché, diciamo, la destra è stata molto berlusconiana negli anni, ora c'è la Meloni, ci sono altre, per carità. Però Berlusconi è stato un faro, un punto di riferimento. Ma io credo che Forza Italia è stato l'unico partito che veramente è rimasto nello scenario politico per così tanti anni, parliamo del 1994, quindi stiamo parlando 28 anni, ma soprattutto è l'unico partito che ha avuto sempre solo un solo leader, che è Silvio Berlusconi, quindi fa parte comunque della storia. Perciò dicevi ora come... Berlusconi, sì, è stato il fondatore del centrodestra, quindi ne è stato il promotore, ne è stato il fondatore, ne è stato il costruttore per lunghissimi anni. Poi Forza Italia, come succede comunque nello scenario politico, nel momento in cui arrivano comunque nuovi partiti, a volte le persone sono portate a votare il nuovo, non sempre il nuovo però corrisponde al meglio. Comunque è un ciclo che... Come tutte le cose che iniziano poi finiscono? Sì, allora Forza Italia non è che è finita, perché il fatto comunque che c'è ancora Silvio Berlusconi che si presenta con il suo partito e alle elezioni è un contributo che non può mancare nel centrodestra, però è quella parte che non da sola non riesce più a conservare, a contenere questo fenomeno di centro e di moderati, perché se no non ci sarebbe stato motivo di esserci noi. Noi per esempio siamo, adesso io mi vorrei anche portare a Napoli e in tutta la regione Campania un modello che sta funzionando e che rientra anche nel centrodestra allargato che è il modello Liguria con Giovanni Toti, abbiamo visto comunque tutto quello che ha fatto. Io credo in questo momento c'è bisogno di una forza moderata, di una forza moderna, che siamo noi moderati, che si andrà ad affiancare sicuramente a Forza Italia quello che sarà il risultato che avrà e sarà di grande supporto comunque alla, credo, presidente prossima del Consiglio di Ministro italiano, Giorgia Meloni. Io però devo farle una domanda. Forse è arrivato il momento anche insomma di una donna in Italia. Se vince il centrodestra certamente sarà Giorgia Meloni presidente del Consiglio, però è quindi una donna alla presenza del Consiglio, diciamo che sarebbe una novità assoluta per l'Italia. Ma io, lei ha fatto riferimento... Beh, il percorso di Giorgia Meloni, devo dire, è sotto gli occhi di tutti, c'è comunque anche il coraggio e la coerenza. Sì, però mi faccio dire una cosa, lei ha parlato di Forza Italia all'inizio, Forza Italia, è vero che è stato Silvio Berlusconi, però era vicino a sé anche, diciamo, Gianfranco Fini, Casini, cioè c'era un grosso, all'interno di Forza Italia e del centrodestra c'era, se andiamo a ricordare tutti i collaboratori di Berlusconi, tutti di livello alto. Ora che c'è nel centrodestra, a parte la figura di Berlusconi, a parte negli altri partiti, che c'è? Cioè non c'è più quella forza propulsiva che c'era negli anni fa. Eh ma lo so, ma è bello, la risposta è molto semplice, non c'è più la Rossi. Lei la vuole buttare sullo scherzo, va bene, però io l'ho fatto una domanda, capire chi sono i riferimenti ora nel centrodestra. Chi sono i riferimenti nel centrodestra? E credo sia la Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia, che è il partito trainante. Esatto, è il partito trainante. Dopodiché è venuto un po' meno. Dopodiché ci sono non moderati. Lei ha vissuto in Forza Italia, quindi sa bene che c'era, diciamo, una platea attorno a Berlusconi di alto livello. Il dubbio che mi viene, non lo dico in senso critico, ma in senso costruttivo, cosa si è costruito all'interno dei partiti in questi anni? Nulla? Non lo so, è una domanda a cui non so rispondere, non so all'interno, non so chi sono i riferimenti diretti di Silvio Berlusconi in questo momento, sinceramente non lo so. Diciamo che è da costruire. Da costruire, appunto. È da costruire. Telegraficamente, tre proposte per la città di Napoli di Maria Rosaria Rossi. Allora, la prima sicuramente è partire proprio dal decoro di questa città, non ne sta parlando nessuno, ma Napoli ha bisogno di essere sistemata partendo dalle strade. Ha intenzione di interloquire col sindaco Manfredi? Io ho intenzione di interloquire con tutti. Con il presidente della regione dell'Unione? Con tutti, con tutti. Si trasferirà a Napoli? Anche perché ad ognuno dovrò dire sinceramente... Si trasferirà a Napoli? Assolutamente sì. Del resto poi lei e Toti siete stati i due collaboratori più vicini a Berlusconi, vi siete ritrovati dopo, lui amministra una regione, lei è venuta a Napoli, è campana comunque, ha vissuto a Napoli, quindi l'ultima proposta sintetica. La proposta che io voglio fare riguarda proprio Napoli nelle persone degli imprenditori di Napoli. Io faccio un appello agli imprenditori di Napoli e di tutta la Campania di metterci insieme e di creare un modello di impresa che venga affiancato, quindi pubblico, affiancato al privato, perché da solo lo Stato non ce la può fare. Ci sarà il PNRR che distribuirà i soldi nel piano che è stato già stabilito per il Sud, quindi non c'è bisogno di andare a dire un euro in meno, un euro in più, è quello, è stato votato. Non ne facciamo una campagna elettorale che illuda, è quello, e non verrà toccato. Ma c'è bisogno comunque che gli imprenditori, devo dire l'accoglienza che ho trovato è proprio in questo senso, perché noi dobbiamo evitare che quei NIT, cioè quei giovani dai 15 ai 25 anni, che non, che, peggio, che hanno abbandonato la scuola e che hanno perso anche la speranza, perché non è che non hanno voglia di cercare un lavoro, hanno perso la speranza. Io sono dovuta andare via dal mio paese per andare a cercare fortuna altrove. Però adesso ne ritorna con l'esperienza. Io ritorno qui e mi rendo conto che i giovani, come me 30 anni fa, ancora oggi, dopo 30 anni, devono andare via per cercare lavoro, per cercare una formazione. Noi dobbiamo con l'impresa affiancata allo Stato creare quei servizi che consentano ai ragazzi di andare a scuola, dobbiamo creare una rete affinché noi creiamo posti di lavoro attraverso la formazione, che potrebbe anche essere retribuita, perché molti lasciano la formazione, per aiutare le famiglie ad andare avanti, perché la vita sappiamo quanto è dura e quanto è cara. Formazione, dopodiché con l'impegno che le imprese private, si, con l'impegno che le imprese private, assumano i giovani che saranno poi preparati e che saranno idoni, ma lo Stato, insieme allo Stato, perché lo Stato deve aiutare l'impresa nei contributi. Quindi tutti quei giovani che verranno assunti, per quei giovani si dovranno pagare i contributi e dobbiamo... Non basta una trasmissione, dovete invitare un'altra volta, perché ho veramente tante cose da fare qui, Arnaldo, lo faremo. Io volevo un flash da lei, visto la destra. Un'altra cosa che devo portare... Ma io posso stare anche un'ora, e se lei non è un'altra cosa che dobbiamo... E bisogna avere il coraggio di dirlo, bisogna partire, chiamate la pace fiscale, ma noi dobbiamo azzerare delle situazioni e partire dal giorno 1, quindi dobbiamo anche avere il coraggio di chiamarlo, come si chiama, di fare lo Stato, di fare un condono fiscale. Bisogna avere il coraggio di... Sembra Casini, sembra... Scusi, Salvini che sta parlando ora. Casini c'è sempre, ci sarà... Casini è immortale. Salvini, ora sta praticamente sostenendo la tesi di Salvini. Quindi in questo... Io sostengo la tesi di Salvini, la tesi di... Di Salvini in questo campo, voglio dire. La tesi di Fratelli d'Italia, ma soprattutto sostengo il modello vincente, lo devo dire, della litura di Giovanni. Facciamo una cosa, ci rivediamo dopo le elezioni, dopo il 25 settembre e ne mi parleremo. No, ma il direttore mi deve dire qualcosa, quindi si deve prendere qualche minuto in più per farlo. No, io volevo dirle soltanto questo, che fa bene ad aderire a quelle che sono le linee degli altri partiti, quindi anche a quella di Salvini che vuole una pace fiscale, che vuole, diciamo, la rottamazione delle cartelle, come la parla di... Assolutamente, stavo arrivando anche a... Il letto, la rottamazione delle cartelle. Sì, sì, sono per l'ottamazione delle cartelle. Ci ha dato il titolo, perciò... No, no, il titolo ve lo do, sì, va bene, anche questo. Facciamo un secondo titolo. Il terzo impegno che mi prendo è che l'occupazione femminile, ma non per l'integrazione, perché porterebbe un PIL importante, perché noi qui al sud, le donne, non possono lavorare, soprattutto a Napoli, perché mi sono resa conto, non ci sono asili nido, affinché i nostri figli possano andare a scuola... Quindi l'ultimo impegno della Rossi è... Asili nido, donne che possano lavorare... Un sistema di welfare che tuteli anche... Giovani e donne. Giovani e donne, perfetto. E' rottamazione. Siamo già oltre tempo. Grazie alla senatrice Maria Rosaria Rossi, grazie al direttore Gianni Ambrosino. Noi ci vediamo, come di consueto, alle 20.40 sul canale 21. Grazie per averci seguito. Ci vediamo dopo la vittoria, però, mi ritorno. Assolutamente, è un impegno. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.